Benvenuto nel nostro canale. In questo video troverai le migliori 30 citazioni di Tony Robbins. Ogni uomo muore, non tutti gli uomini vivono. I leader focalizzano il 5% del loro tempo sul problema e il 95% sulla soluzione. Identifiche i problemi, ma dai potere ed energia alle soluzioni. Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo orientare le vele. Se vuoi avere successo nella vita, trova qualcuno che ha raggiunto i risultati che desideri e demula i passi che ha compiuto. Così potrai raggiungere anche tu gli stessi risultati. Falliscono coloro che, di fronte alle avversità della vita, li accolgono come limitazioni. La maggior parte delle persone sopravvaluta quello che si può fare in un anno e sottovaluta quello che si può ottenere in 5 anni. I grandi leader, qualunque cosa accada, si assumono la responsabilità. Il fallimento non esiste, esistono solo i risultati. La tua vita cambia nel momento in cui prendi una decisione nuova, congrua e impegnata. Fissare obiettivi è il primo passo necessario per trasformare l'invisibile in visibile. È nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino. Possiamo cambiare la nostra vita in un attimo. Possiamo essere esattamente ciò che vogliamo. Concentrati su dove vuoi andare, non su ciò che ti fa paura. Fai sempre quello che hai sempre fatto. Allora, avrai sempre quello che hai già avuto. Non seguire il sentiero già segnato. Va invece dove non vi è alcun sentiero e lascia una traccia. Più decisioni prendi, più bravo diventerai nel prenderle. I muscoli diventano più forti con l'allenamento e lo stesso avviene quando sviluppi i muscoli capaci di prendere decisioni. La gente non è pigra, semplicemente ha mete sbigorite. Mete che non ispirano affatto. Nulla ha potere su di me, tranne il potere che conferisco ai miei pensieri coscienti. Quando i tuoi pensieri sono abbastanza forti, ti sembrerà di possedere poteri immensi per raggiungere ciò che desideri. Sono giunto a credere che tutto il mio passato, il fallimento e la frustrazione che ho vissuto sono stati effettivamente indispensabili per farmi raggiungere il mio nuovo livello di vita. Le vere decisioni si misurano con l'intraprendere nuove azioni. Se non agisci, non hai veramente deciso. Oggi prendi una decisione che hai sempre rimandato e domani fai la stessa cosa. Allenerai il muscolo che potrà aiutarti a cambiare la tua intera vita. Non è ciò che facciamo di tanto in tanto che conta, ma le nostre azioni costanti. E qual è il padre di qualsiasi azione? Che cosa, alla fine, determina ciò che diventiamo e dove andiamo nella vita? La risposta è le nostre decisioni. Compiendo semplici atti di gentilezza nei confronti degli altri, non possiamo fare a meno di elevare noi stessi. Non dimenticate che il comportamento umano è il risultato dello stato d'animo in cui ci si trova. Se almeno una volta in vita avete ottenuto un buon risultato, potete rifarlo ripetendo le stesse azioni mentali e fisiche compiute allora. Tutte le risposte sono a nostra disposizione, basta solo scegliere le domande giuste per vincere. Se non puoi, devi. E se devi, puoi. La determinazione è la sveglia del volere umano. Solamente chi ha imparato il potere di un aiuto sincero e disinteressato prova la gioia più profonda della vita. Il vero appagamento. Abbiamo selezionato alcune delle più interessanti citazioni di Tony Robbins. Egli è un celebre coach motivazionale e autore di bestseller che ha aiutato milioni di persone a raggiungere il successo e la felicità. Vorremmo sapere quale di queste frasi ti ha colpito di più. Lascia un commento qui sotto e se non lo hai ancora fatto iscriviti al nostro canale. Grazie per averci seguito.